L'anima degli mortacci peggiori vostri, 88 e 46, siamo adesso su 2 a 1, qua fanno rivedere il call di Chiesa, che per il momento sta recidendo ragazzi il match, i peggiori mortacci vostri, 91esimo, oggi è stato uno skip temporale pazzesco, vi spiego il motivo, stavo usando i server ragazzi inglesi, perché MediasetPlay ha deciso di non funzionare, e quindi dobbiamo usare, per fortuna sono anche riuscito adesso a trovare Canale 5, comunque, 2 a 1 con gol iniziale di Can, pareggio di Valotti, e gol poi in finale di Chiesa, che ha fatto un gol della Madonna, Allora, i peggiori mortacci vostri, perché? Perché dobbiamo sempre soffrire, e che cazzo? E poi non stiamo neanche, non è ancora detto perché siamo 2 a 1, quindi non si sa mai ragazzi, questo Monza sono di figli di grandi donne, e quindi ce la vogliamo far sudare fino alla fine, e noi da bravi scemi, iniziamo benissimo, perché devo dirlo, abbiamo iniziato molto bene la partita, poi da calcio d'angolo, prendiamo un gol, con Valotti che era totalmente sbarcato, Perin che non copre il primo palo, fantastico il gol, fantastico, e questo Monza ragazzi, vanno fatti tutti i onori del caso, ha messo super in difficoltà la Juve, e poi io, sembra stia dando la partita per finita, ma non lo è per niente, mi do una grattata, nel dubbio, perché siamo dei deficienti, che non riescono a chiudere le partite contro le piccole, qua c'è anche Ariano Galiani, nella tv, nella tv, il Tribula, e attenzione qua il pallone, lo stiamo spacciando, spazzando, ce la direi, grande prestazione ai giovani, il Ling Junior, ma quanto cazzo è forte ragazzi, questo qua, quanto cazzo è forte, il Ling Junior è pazzesco ragazzi, pazzesco, e io non vedo l'ora che torni una persona, dovrebbe tornare, se non sbaglio, verso aprile, si è infortunato, se non sbaglio, proprio l'anno scorso, non tendi a kill, proprio il crociato si è rotto, ovvero Caio George, vedendo come sta valorizzando oggettivamente Allegri, perché quando c'è a criticare ragazzi, Allegri, per i giovani, è tutti sempre pronti a criticarlo, però quando li fa giocare, non lo sta facendo giocare solo adesso, ma Fageli e Miletti, ragazzi, stanno facendo tante partite anche da titolari, valorizza Ken, nessuno ne parla, quando però c'è da criticare, che non fa giocare mai giovani, e faceva giocare solo Chiellini, Borucci e Danilo, però sempre pronti. Alexandro, mamma mia ragazzi, poco fa mi ricordo ad esempio l'azione dove l'ha messa in calcio d'angolo, in qualche modo, è più difficile metterla in calcio d'angolo, che è metterla fuori, e qua adesso si lamenta, oh mamma mia, oh Riz, a Paredes e Izzo, mamma mia, non entrambe proprio due teste, due persone che ragionano, Izzo e Paredes, abbastanza due teste calde, oltre che teste di ca, Paredes, mamma mia ragazzi, Paredes deve solo ingranare la giornata, però è incredibile ragazzi, alcune volte fa delle prestazioni assurde, altre fa delle prestazioni di merda, questa non è niente di che, però deve migliorare ragazzi, anche lui, noi dobbiamo molto migliorare in difesa, diamo veramente troppo, io non voglio più vedere questo ragazzi trio Danilo, Danilo, Alexandro e Gatti, Gatti, Danilo vanno bene, ma c'è bisogno ragazzi di Bremer e di Bonucci, e io onestamente proporrei per un terzo difensore, mamma mia, un quarto di merda, io vorrei un terzo difensore ragazzi, oltre a Danilo e Gatti e Bonucci, perché qua ragazzi serve assolutamente Lugani e un quarto, ma, cioè, se ci si infortunia uno, giocare Lugani di tutta la stagione, non voglio neanche saperlo, per scherzo, non voglio proprio sentire questa proposta, beh, ho bisogno ragazzi di un altro difensore, e la fase difensiva oggi, per quanto riguarda, non è stata per niente impeccabile oggi, bisogna migliorare veramente tanto sia in difesa che in attacco, perché anche in attacco, il centrocampo sta andando molto meglio, anche se ci sono alcuni sbagli a fare, però comunque ragazzi, c'è da dire che abbiamo una fase difensiva per niente buona, no, la fase difensiva per quanto riguarda ragazzi, non va per niente bene, la fase difensiva va migliorata, perché non puoi permetterti di soffrire per quanto riguarda, se poi voi avete opinioni diverse e siete liberi di esprimerle, ma per me non puoi soffrire così tanto contro il Monza. Non so ragazzi, è entrato anche Locatelli che ha sistemato qualche cosina, Miretti deve migliorare in alcune circostanze, sul dribbling, sul passaggio, in alcune cose deve migliorare, però comunque Miretti sta veramente crescendo molto. Ah, ecco chi mi mancava, ecco l'altro giovane che devo elogiare, il migliore forse insieme a Eiling Junior, ovvero Sule, ragazzi quanto è forte Sule, mamma mia quanto è forte ragazzi, Sule, Sule veramente sulla fascia galoppa galoppa, cioè tra virgolette mettiamola così, è un peccato avere Chiesa che faccia l'esterno destro, perché per quanto riguarda Sule dovrebbe giocare il titolare, peccato che abbiamo uno forte quanto Chiesa, quindi non possiamo, però comunque si potrebbe anche fare, magari che ne so, magari un 3-4-3 ipotetico con Sule dietro a Chiesa, ma comunque Chiesa ragazzi fa un gol della Madonna, mamma mia Chiesa che gol della Madonna che ha fatto, va tiro a giro, destro a giro, fantastico, dopo un dribbling prima, bravissimo ragazzi, bravo, bravo, bravo ancora, bene anche Ken che fa il gol, chi mi resta da elogiare? Andiamo un attimo dalle partite al Monza, Valuti ha fatto veramente un'ottima partita, e comunque voglio essere contento ragazzi per Sensi che finalmente dopo mesi che non giocava, ragazzi Sensi purtroppo poteva essere un fuoriclasse, cioè ricordiamo che l'ha acquistato l'Inter, e ancora è proprietario dell'Inter, se non vado errato, perché col Monza in prestito, ma comunque Sensi non dico che doveva essere un nuovo crack, ma io mi ricordo che una delle prime volte che lo vidi era in nazionale nel 2018, e rimasi stregato a questo giocatore che faceva una fase di centrocampo offensiva veramente pazzesca, per non parlare anche della difensiva che per essere uno basso come lui, uno e 75 tipo, ma comunque abbastanza basso Sensi, faceva veramente un'ottima fase difensiva, ottima, e quindi è un vero peccato, perché Sensi poteva essere veramente un grandissimo giocatore, però non è mai riuscito a esplodere per via degli infortuni, ma sono contento per lui che oggi sia tornato, sono contento che sia tornato Nicolo Rovella, uno in ottica Juventus che deve giocare questo qua, e io ragazzi anno prossimo, visto che non avremo parere, rivuglio Rovella, e due perché c'è l'Alfanta, quindi mi serve anche l'Alfanta, passiamo il turno, non l'avrei mai detto onestamente, sono serio eh, non pensavo di passare il turno, vedendo come sono andate, uno l'Inter contro il Parma che si sono cagate addosso, due Milan col Turino, tre Napoli con la Cremonese, non me lo sarei aspettato, tabellone di Coppa Italia che non mi ricordo minimamente, sono passati ragazzi anche Lazio e Atalanta, Atalanta che ha fatto 13 gol nelle ultime 5, pazzesco ragazzi, pazzesco, e adesso avviviamo anche il quadro completo di Coppa Italia, se riuscissi a trovarlo, sapete che forse siamo contro la Cremonese, ma non è il suo per niente certo, può essere che siamo, fatemi vedere, siamo, no no cazzo, siamo con la Lazio, bella, mi ricordavo che fossimo con la Cremonese, non so il perché, non so perché qua, poi è anche bagato perché dice, martedì 31 gennaio Inter Atalanta all'ora, ah bello Inter Atalanta, non lo sapremo, comunque ragazzi, noi ci vediamo domani, ora è 7 del mattino, e 3 su 45, ciao!